Il Festival di Morgana nasce come rassegna dell'Opera dei Pupi nel 75 insieme al Museo delle Marionette Antonio Pasqualino ed è su quella scia che si prosegue integrando contemporaneità e tradizione. Noi proviamo sempre a mettere insieme lo spettacolo di tradizione con le innovazioni culturali e del teatro contemporaneo e anche quest'anno abbiamo grandissimi interpreti internazionali e nazionali come Davide Spinosa che è uno spagnolo che ha vinto la Biennale di Teatro di Venezia un paio di anni fa che porta in scena tre suoi spettacoli, quindi facciamo una retrospettiva. Abbiamo una grande attrice italiana, nonché regista, che si chiama Marta Cuscurà che concluderà il Festival al Teatro Garibaldi, che porta in scena un tema molto forte che è quello del rapporto delle donne con la società contemporanea e come tutto questo si esplica molto spesso in tanti fraintendimenti. E poi abbiamo veramente degli spettacoli di produzione del museo, spettacoli prodotti dal museo durante tutto l'anno in sinergia con altre istituzioni culturali come il Trentino Gezze, quindi inaugureremo il Festival con questo spettacolo che si chiama Ostro, Mastrosso e Carcagnosso dove c'è un'integrazione tra attori, pupi, coro e le scene di Enzo Patti che è un nostro artista contemporaneo, patrimonio di questa città. Cioè un festival che mette insieme i grandi, i piccini e soprattutto dimostra che quest'arte del teatro è un'arte universale che cerca di mettere insieme anche i problemi del quotidiano di rappresentarli e non di risolverli ma di fare riflettere su di essi.